Molto bello, nel senso che io è la prima volta che partecipo ad un live e sono arrivata con la lavagna bianca, nel senso non aspettative, non sapevo come sarebbero stati i tempi, le modalità di farlo, quindi mi sono affidata completamente e mi sono lasciata andare, molto molto bello. Cioè, posso dirlo? Si sente come una grande famiglia. Lo consiglierei perché ti senti parte di una famiglia. Io faccio parte del gruppo su Facebook da qualche mese, intervengo poco perché sono timida, però quando sono qua mi sembra di conoscere tutti da una vita e quindi il cuore si espande, il cuore si diventa grande, senti tanto amore e si lavora veramente bene. Allora, mi porto a casa che non sono sola, ci lavoro sempre, e la forza del gruppo, la forza di Patrizia, di questa donna semplice, veramente sembra un'amica con cui andarci a bere una birra, e che però ti aiuta veramente tantissimo a credere in te stessa e a lasciarti andare. Patrizia, grazie perché mi hai permesso di lasciarmi andare, affidarmi e ricevere appunto un grande dono.